Negare il patrocinio per impedire che un movimento fanatico come il BDS usi il nome del Comune di Trieste per promuovere odio e fanatismo. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato la lettera attraverso la quale l'ambasciatore israeliano in Italia, Nahor Ghilone, ha chiesto ed ottenuto che il sindaco Cosolini ritirasse il patrocinio ad un convegno internazionale, Palestina tra diritti negati e prospettive future, tenutosi comunque in novembre senza il logo del Comune che pure aveva confermato sala e contributo economico. Organizzato da Long Luce Salami Ragazzi dell'Olivo, il convegno ha visto la partecipazione di Stefani Westbrook, attivista per i diritti umani del boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. E il BDS è il vero obiettivo dell'ambasciata, secondo cui esso rappresenta una copertura per organizzazioni come Hamas ed altre inserite nella lista delle organizzazioni terroristiche. Il Quotidiano di Marco Travaglio ospita anche la risposta della Westbrook che difende il BDS. Già noto a Trieste in verità, l'assessore Laureini bloccò gli affari con una ditta israeliana per i distributori pubblici di acqua presenti illegalmente sui territori palestinesi su richiesta dello stesso movimento. Westbrook, nella replica, stigmatizza il comportamento del Comune che, a suo dire, nell'occasione del mancato patrocinio al convegno si è dimostrato sottomesso ed accondiscendente alla lettera dell'alto diplomatico israeliano.